Ciao, sono Gerardo Paterna e come promesso torno da te per aggiornarti sullo sviluppo di Sinergie, l'evento dedicato all'immobiliare dei servizi. Sinergie in versione digitale si terrà venerdì 27 novembre a partire dalle ore 10. A te non resta che registrarti alla piattaforma per scoprire i relatori e ricevere un link personalizzato che ti consentirà di entrare in un ambiente grafico gradevole dove troverai quattro stanze virtuali e dalle quali potrai goderti ben 23 speech, tre tavole rotonde e due eventi speciali. Compagna inseparabile sarà una chat interattiva attraverso la quale potrai porre le tue domande ai vari relatori. Ai blocchi di partenza con me ci saranno due personaggi eccezionali legati alla comunicazione e alla trasformazione digitale. Sto parlando di Paolo Iabichino e di Rudy Bandiera. Quindi insomma a te non resta che registrarti, quindi andare sulla landing page, lasciare i tuoi dati, ottenere il link che ti permetterà di accedere alla piattaforma ed insomma prepararti a venerdì 27 novembre alle ore 10 per una nuova edizione di Sinergine. Ti aspetto in diretta!